Rinascimento e contemporaneità rivivono all'interno di Palazzo Vitelli alla Cannoniera con l'allestimento dell'ala nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello per un percorso unico nel suo genere. Inaugurata la nuova Sala Nuvolo, la Sala Bartoccini nella Sala delle Vetrate e la Event Room, spazio polifunzionale dedicato alle mostre temporanee e alle installazioni di artisti contemporanei. Il museo, Seconda Galleria dell'Umbria, ospita in un unico percorso nella dimora cinquecentesca simbolo del Rinascimento opere che spaziano da Raffaello a De Chirico, da Signoreli a Nuvolo. Se è il maestro Alberto Burri a renderci una città a vocazione contemporanea, ora i contemporanei devono fare la loro parte e sviluppare questo tema attraverso progetti. Eventi, reti, che facciamo vivere la temperia artistica del XXI secolo, dichiara l'amministrazione comunale di Città di Castello ed in particolare l'assessorato alla cultura. È questo l'obiettivo del riallestimento dell'Ala Nuova della Pinacoteca, un progetto dell'amministrazione comunale curato da Archivio Nuvolo per la Sala Nuvolo, lo storico dell'arte Lorenzo Fiorucci per la Sala Bartoccini e la Event Room, e le onora reali per la mostra che ha tenuto a battesimo un luogo unico, dedicato a undici opere e ceramiche dell'ascito pillitu, mai esposte fuori dallo studio di Palazzo Pierleoni, tra cui Michelangelo Pistoletto, Dottori, Schifano, Derigu. La Sala Nuvolo a cura dell'Archivio Nuvolo è stata trasferita e riallestita con l'introduzione dell'opera più grande realizzata dall'artista Scacco. Dal 2018 l'Archivio Nuvolo propone l'esposizione di tutte e quindici le opere donate dalla famiglia Ascani più una inedita di proprietà del comune, acquistata a fine anni 50 quando, incoraggiato dall'importanza che Città di Castello stava assumendo nel panorama artistico del dopoguerra, pensava già a una galleria d'arte moderna comunale. L'importante occasione data dall'amministrazione comunale di spostarci in una sala più ampia all'interno del museo non poteva essere ignorata precisa Paolo Ascani in rappresentanza di Archivio Nuvolo, anche in vista degli eventi che ci accompagneranno al 2026, anno del centenario della nascita del Maestro Nuvolo che vedranno Città di Castello al centro delle celebrazioni.